Capire qual è la soluzione e qual è il problema in questo momento ce ne sarebbero tanti da elencare. Il discorso è che noi facciamo di tutto per seguire il mister e non c'è assolutamente alcun problema, soprattutto in settimana, nelle sedute di allenamento vengono sempre bene, ci alleniamo bene e crediamo in quello che comunque ci chiede il mister. Il problema è che in questo gioco vieni giustamente giudicato per quello che fai la domenica e in questo momento stiamo facendo delle prestazioni di basso livello. Dobbiamo cercare di invertire questo trend a tutti i costi perché così è veramente brutto. Hai detto bene, sicuramente questa squadra dovrà aggrapparsi alla forza dei suoi leader. Io mi metto davanti sul fatto che comunque forse ho sbagliato nel trasmettere l'importanza di questo campionato, di giocare per la gente, di giocare per questa città. Io non credo nella sfortuna, secondo me alla fine il calcio tra cose buone e cose cattive ti dà sempre quello che ti meriti. In questo momento se le cose vanno così è perché ce lo stiamo meritando. Quindi il discorso è cercare di alzare la testa, in questo momento si vedono gli uomini, è troppo facile quando le cose vanno bene, quando c'è entusiasmo. Quindi anche oggi ho deciso di parlare perché a maggior ragione credo che era giusto che parlassi io e nulla, cercheremo di invertire la rotta. Io ti ripeto, in settimana vedo cose diverse, quindi dire che questa squadra è depressa magari il mister la interpretava sul fatto che forse non siamo solidi quando la prima difficoltà non abbiamo la forza di ripartire, soprattutto quando magari prendiamo svantaggio. In questo momento ci vengono a mancare anche forse delle cose magari a livello offensivo sul fatto magari di andare in vantaggio, di portare il pubblico dalla nostra parte, creare un qualcosa che possa, tipo una scintilla insomma per alzare anche chi ci sostiene. Quindi, ripeto, sembra che dico sempre le stesse cose, però in realtà oltre che lavorare durante la settimana, cercare di spronarci, di dare ognuno il proprio contributo, altro non c'è. Giustamente il tifoso è deluso, vive per il calcio e giustamente reagisce come meglio crede. È chiaro che vedere la propria squadra sotto 3-0 in casa è una cosa che fa male, soprattutto per chi viene sempre allo stadio, per chi ha fatto l'abbonamento, per chi segue il Frosinone in trasferta, come è successo la scorsa partita. Io capisco tutto ed è giustissimo. In campo ci andiamo noi e, ripeto, i primi a farsi un esame personale, a partire da me, siamo noi. Dobbiamo cercare insieme al mister, insieme alla società, di invertire la rotta, di cercare qualcosa che possa rimettere entusiasmo, possa far essere contenta la gente di venire a vedere il Frosinone, di farla divertire. Io me lo auguro con tutto il cuore, quindi speriamo così. Ma al di là del fatto che, comunque, sai, quando si va in svantaggio, soprattutto oggi, che al di là del fatto che magari siamo stati poco pericolosi davanti, però secondo me non avevamo rischiato tantissimo dietro. Il discorso preoccupante è proprio che, io sono due anni che sto qua, ma l'anno scorso ci è capitato tante volte di andare sotto, e c'erano dei momenti in cui entravamo nello spogliatoio e tutti sapevamo che prima o poi la partita l'avremmo ripresa. Oggi, noi, anch'io ho visto questo che hai detto tu, che comunque è mancata un po' la voglia di andarla a riprendere, alla fine eravamo sotto solo di 1-0, quindi è chiaro che poi dopo abbiamo preso due golle per due errori e quando le partite si mettono così non è facile, insomma, riprenderla. No, io credo che dopo queste cose qua, soprattutto dopo la partita, la migliore arma è il silenzio, è la riflessione. Ognuno di noi sa che può dare di più e sa che comunque così fa male a tutti, quindi è chiaro che domani mattina ci alleniamo e parleremo, parleremo tra di noi, parleremo col mister e anche per capire un po' quali sono le cose, insomma, anche dei ragazzi giovani che comunque sono arrivati da poco e vedremo cosa faremo, insomma.